Notte brava in Versilia per un 52enne commerciante capannorese, arrestato per omissione di soccorso. L'uomo, M.M. e le sue iniziali, nella serata di Ferragosto aveva raggiunto la costa per una serata all'insegna del divertimento. Ma bicchiere dopo bicchiere, una volta rimontato sul suo grosso SUV americano Dodge Ram immatricolato in Texas, in preda ai fumi dell'alcol, ha commesso due incidenti e diverse infrazioni al codice della strada. Il capannorese, infatti, una volta entrato nel parcheggio della discoteca alla capannina di Forte dei Marmi, con l'ausilio del freno a mano, ha cominciato a fare testa-coda con stridio di gomme e altre pericolose evoluzioni, provocando scompiglio e paura fra i numerosi clienti che uscivano dal locale, e urtando poi una Fiat Punto condotta da un senegalese che stava ripartendo dal semaforo. Fuggito poi verso il centro della località marina, l'uomo, dopo qualche minuto, è tornato indietro, percorrendo il Via Lammare in senso contrario, inseguito dal senegalese e dai carabinieri del comando di Petrasanta, che sono poi riusciti a fermare il mezzo nei pressi della Versiliana. Successivi controlli hanno fatto poi emergere che il 52enne, prima di urtare la Punto lungo il Via Lammare, aveva già cozzato violentemente anche contro un autobotte adibita allo spazzamento strade, causando danni al mezzo e lesioni al conducente. Quest'ultimo, infatti, sceso per contestare quanto accaduto, era stato anche colpito alla testa dal commerciante, che poi era fuggito. L'uomo, condotto perito direttissimo davanti al Tribunale di Viareggio, è stato scarcerato e nei suoi confronti è stata applicata la misura dell'obbligo di firma in attesa del processo. I carabinieri hanno inoltre constatato che la targa prova usata sul SUV era irregolare.